Una maestra in pensione ci scrive, perché nella mia lunga carriera di insegnamento non mi è mai capitato di vedere un alunno con delle difficoltà a leggere, scrivere e far di conto che non sia riuscito ad imparare? L'insegnamento non è per tutti. Purtroppo oggi molte persone si dedicano all'insegnamento per ripiego, non avendo ottenuto la carriera professionale che desideravano. Vi sono invece insegnanti in grado di fare amare anche il latino o il greco antico e capaci di farne scoprire e vedere le applicazioni nella vita odierna. Non esistono sistemi di insegnamento miracolosi, scorciatoie o facili trucchi. Si può insegnare a chiunque e portare ciascun allievo al proprio personale successo scolastico. Questa e altre risposte le potete trovare nel manuale elementare di consigli pratici per genitori, insegnanti e non solo, disturbi? Quali disturbi?